Rispondo con una battuta, per tanto tempo ci hanno accusati noi di Fratelli d'Italia di non avere classe dirigente, adesso saremmo in grado di calare addirittura un ministro, o quello che sta oggi è un ministro con una grandissima esperienza a fare il governatore del Veneto. Se la cava con una battuta, ma fino a un certo punto il numero uno di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, quando il nome sul tavolo in vista delle regionali 2025 sarebbe quello del ministro all'impresa al Made in Italy, il padovano Dolfo Urso. Radio Palazzo lo dà in pole position, anche se la strada è ancora lunga, in politica eterna. Io credo che Urso sia un grandissimo ministro, è tra l'altro molto concertato sulle questioni nazionali e lo ha detto lui stesso, sono concentrato su questo, non ho tempo adesso per queste cose anzi. È chiaro che prima c'è più di un nodo da sciogliere, la questione del terzo mandato per Luca Zaia, i rapporti non sempre di Illiaci, soprattutto in Veneto, tra Lega e Meloniani. Non so se tocca a noi o se toccherà ad altri, io credo che noi abbiamo il dovere di far crescere una classe dirigente che nel caso ci fosse un accordo tra tutte le forze politiche e gli alleati, per cui la miglior persona per il dopo Zaia sia una di Fratelli d'Italia, non vedo perché potremmo precludere. Ci abbiamo fatto un ottimo risultato alle politiche, stiamo lavorando bene in tanti comuni e soprattutto al governo, abbiamo il dovere di essere pronti. Ma che la corsa sia già iniziata e non da oggi lo dimostrano vari segnali anche dall'opposizione, De Carlo in questo caso è tranciano. Vedo l'autocandidatura di Crisanti e quindi capisco che nel centrodestra la questione non è poi così delicata e così difficile.